Ciao a tutti ragazzi, io sono Sbloz e oggi sono in questo nuovo video ragazzi è da tantissimo tempo che non faccio il video quindi in questi giorni cerco di fare molti più video allora ragazzi, tutti stiamo su Missile DUDE RPG il video l'ho scaricato da poco così almeno cioè perché se vedete che io sono a livello proprio pochissimo perché in pratica in pratica ho iniziato a giocare da poco questo gioco allora ragazzi ho preso delle armi 100.000 anni riesco a vivere sblozio come si mettono le armi mamma mia si mettono le armi spaviii ok vabbè vabbè cosa potremmo prendere cioè perché a me c'è un'acchiumence è questo un'altra un'altra ho anche un po' il volume a me c'è un'acchiume a me c'è un'acchiume e' adesso si apriamo un pallino di menet e' meglio guarda quale cosa ci rompiamo ci rompiamo una cassa boncrit Scusami se è buona, buona, sicuramente è buona. Ehm, soprattutto i ragazzi stavamo facendo un po' veloce. E io penso che morivamo già. Vai. Ok, ora mi stavo arrivando più questo. Ok, ora mi stavo arrivando. Ok, ora mi stavo arrivando. Ok, ora mi stavo arrivando. Ok. Ok. Ok, ora mi stavo arrivando. 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 Questa è la mia... Ok, ora mi stavo guidando. Ok, ora lo mettiamo un attorno di danno. posso anche gridare dai vabbè la cosa che non mi fa mi dicono che non specialmente mi dicono mi dicono mi fanno mi fanno mi fanno mi fanno se stanno andiamo e questo è un pochissimo ok no ma ci un pochissimo mi troppa non è un pochissimo non 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 si vedete un poche lag ecco ok ora poi iniziamoci no non ce la possiamo ancora noi lo portiamo con questo e poi lo portiamo con il polmarino ma cazzo che è allora questo sta diventando quasi un pacote vai un pollo si volevo proprio un pollo da mangiare ah questo è un po' buono questo è buono è un po' così questo è un pollo da mangiare entra quando eravamo lo schiattiamo non cazzo non cazzo che non cazzo che non cazzo che ora faccio un botterone ora faccio un botterone